Benvenuti nel nostro spazio. Siamo l'Associazione Sporti Insieme Farra Sabina. Qui a fianco a me vedete il nostro tecnico di equitazione, la signora Paola Cestola, e la mamma di una nostra allieva, la signora Cristina Assenza. La nostra associazione nasce nel 1991 a Passocorese, in provincia di Rieti. È nata grazie a un gruppo di genitori, di ragazzi diversamente abili, che volevano dare ai propri ragazzi un'opportunità in più come crescita personale. E grazie allo sport ci siamo riusciti. Noi organizziamo le attività di atletica leggera, equitazione e bocce. Atletica leggera viene effettuata a Passocorese, nella Bassa Sabina, presso la pista di atletica leggera che ci offre gratuitamente il comune di Farra Sabina. Mentre invece l'equitazione la svolgiamo a Roma, presso il circolo ippico Orlando e presso la società ippica Sabina, che si trova in Sabina. Il gioco delle bocce è praticamente una nostra attività che sta nascendo in questo momento. Utilizziamo il bocciodromo sempre del comune di Farra Sabina, dove c'è già un'altra associazione che fa il gioco delle bocce. I nostri ragazzi partecipano alle loro attività integrandosi con loro. L'atletica leggera viene effettuata nei periodi estivi nella pista di atletica, mentre invece nei periodi invernali nella palestra della scuola media Orazio. Anche durante gli allenamenti dell'atletica noi abbiamo scelto di partecipare a delle attività integrate. La palestra è utilizzata da altri ragazzi e questo ci permette uno scambio anche fra i vari partecipanti alle attività. Come atletica leggera i nostri ragazzi partecipano ai 400 metri, al lancio del vortex e al lancio della palla. Proprio per rimarcare un attimo il discorso dell'integrazione, durante lo scorso inverno dei ragazzi che fanno attività all'interno della palestra si erano molto incuriositi dai nostri che lanciavano questo vortex e ne è uscita una bella situazione di scambio fra gli atleti che erano in quel momento nella palestra che effettuavano le loro attività e i nostri che sono diventati insegnanti degli altri ragazzi. Questo è stato un episodio veramente molto carino. E niente, adesso passo un attimo la parola alla signora Paola Cestola per quanto riguarda l'equitazione. Salve a tutti, sono Paola Cestola, sono un tecnico di equitazione del CIP ma anche un tecnico brevettato Special Olympics. Ispettore tecnico sia per lo Special Olympics che per il CIP. Mi occupo di equitazione e comunque di disabilità dal 1990 circa. Vengo da una formazione di educatore professionale, faccio parte della FISE naturalmente con i brevetti previsti per la formazione tecnica dei quadri del CIP e dello Special Olympics. Sono anche istruttori di base, di dressage per i normo dotati con abilitazione del CEF Italia. Tutto questo per dire che la preparazione necessaria per condurre un'attività insieme ai ragazzi, per lavorare nell'ambito della didattica dello sport sia con le persone normo dotate e in particolar modo con le persone con disabilità è una strada piuttosto lunga. Per quanto riguarda l'approccio metodologico della nostra associazione, si rifà, come abbiamo detto, a tutte le indicazioni del CIP, del CONI, le indicazioni generali del CONI e al programma dello Special Olympics Italia. In particolare però nella nostra associazione ci orientiamo sulle tecniche della equitazione centrata, della doma dolce e integrate con le informazioni e le conoscenze che abbiamo circa i metodi di facilitazione neuromotoria ispirati in particolar modo al metodo CITTERIO. Questo perché l'equitazione, in particolare il mezzo cavallo, crea una condizione particolare che se sfruttata a dovere consente alla persona che monta a cavallo e che svolge l'attività di trarre molti benefici anche dal punto di vista fisico, neuromotorio e psicomotorio. Il nostro obiettivo primario nella didattica è mettere al centro la persona. Il nostro allievo viene accolto con un atteggiamento sostanzialmente di ascolto e tutta l'attività ruota soprattutto all'inizio nell'osservazione dei comportamenti del ragazzo ma anche nell'osservazione della relazione che si svolge tra il cavallo e l'allievo e l'operatore e l'allievo e anche tra gli operatori in sé. Questo ci permette di offrire un programma didattico estremamente individualizzato che tenda a evidenziare le parti meno espresse dei ragazzi che possano avere l'opportunità di venire fuori in un'attività anche molto strutturata come quella dell'equitazione. Però non ci dimentichiamo mai di divertirci, di fare delle cose che hanno non solo attinenza stretta con il mondo del cavallo ma anche con il resto del mondo e comunque la situazione dello sport in generale, dello stare insieme, della socialità e in particolare con il movimento e con il movimento armonico. Direi che il bisogno sostanziale che esprime l'attività, non il bisogno scusate il senso maggiore espresso dall'attività che svolgiamo non è quello di portare in gare i ragazzi o di creare degli atleti assolutamente che arrivano sempre primi o assolutamente in primo piano quanto proprio quella di vivere un'esperienza gradevole e gratificante tutti insieme. A questo proposito vorrei che Cristina, la mamma di una nostra allieva, la mamma di Carolina potesse insomma dire qualcosa riguardo alla loro esperienza in questo senso? Senz'altro, come diceva Paola io sono la mamma di una ragazza di 21 anni con una disabilità che è prevalentemente di comunicazione verbale anche se non di comunicazione emotiva che monta da quando aveva 6 anni. Mia figlia ha frequentato moltissimi centri con esperienze quasi sempre positive, direi anzi assolutamente positive. All'inizio la scelta di fare equitazione è stata determinata dalla volontà di far acquisire a mia figlia sia sicurezza sia autonomia, sia equilibrio mentale e fisico perché aveva problemi di equilibrio anche fisico e poi soprattutto per creare delle attività che le consentissero di rapportarsi con una realtà il più ampia possibile visto i suoi limiti e anche che si divertisse. Quindi la scelta del cavallo è stata questa ed è stata una scelta vincente sicuramente perché Carolina ha acquisito negli anni una sicurezza e una capacità di stare al compito che era una delle sue altre grandi carenze molto molto affinata tant'è che Paola mi racconta sempre che Carolina oggi riesce a fare con il cavallo tutta una serie di attività anche diciamo di gara non soltanto di montare o accarezzare il cavallo che è una cosa che le piace sempre perché ama tutti gli animali. Delle abilità che prima francamente erano impensabili così come un'altra esperienza che lei ha fatto sempre a cavallo è stata il volteggio che era stato scelto proprio per un equilibrio fisico e lei nel volteggio si è comportata in maniera eccellente anche perché molto minuta quindi questo le consentiva di muoversi con estrema facilità. Quindi l'esperienza del cavallo è solo positiva anche perché negli ultimi tempi Carolina frequenta esclusivamente l'associazione Sport Insieme per lo sport equestre basta non altre associazioni hanno cominciato anche a fare le gare cosa che gratifica infinitamente i ragazzi perché tutte le attività dei ragazzi disabili hanno in genere il limite di non vedere il prodotto un ormodotato fa un'attività vede un prodotto mentre invece il ragazzo va lì che vede poco bene che vada quando fa ceramica vede un vasetto mentre invece col cavallo la gara la gara ti comporti in un certo modo se ti comporti bene questo dà un risultato allora anche da questa esperienza noi come famiglia insieme ad altre famiglie abbiamo allargato il discorso il rapporto con gli animali il rapporto con la natura cercando di inserire anche i ragazzi in un progetto di coltivazione biologica e di fattoria sociale perché le cose non sono assolutamente distanti una dall'altra perché il rapporto con la natura ci siamo accorti che per i nostri ragazzi è assolutamente gratificante sia per i risultati sia anche perché dà un senso di integrazione che quattro mura di appartamento e ahimè troppo spesso televisione non danno non solo l'obiettivo è anche un altro l'obiettivo è dove è possibile ovviamente non parliamo di situazioni medicalizzate ma diciamo di ragazzi diversamente abili che comunque conducono la vita abbastanza normale tra virgolette l'obiettivo fondamentale dove è possibile quello di trasformare l'handicap che è sempre visto come un peso sociale di trasformarlo invece in una risorsa addirittura mirata alla produzione di beni non è casuale quello che diceva la Presidente che dei ragazzi diversamente abili sono diventati istruttori di ragazzi normodotati quindi il nostro obiettivo è questo inserire al meglio i nostri ragazzi nella società e l'equitazione per la mia esperienza è stata veramente positiva in questo senso a questo scopo se posso vorrei aggiungere il fatto che grazie all'affiliazione in particolare dell'associazione con un ente di promozione sportiva abbiamo la possibilità di iscrivere e testerare anche ragazzi normodotati e già abbiamo partecipato ad alcune manifestazioni sportive di equitazione con una squadra integrata questo è un grande obiettivo che speriamo insomma di riuscire ad ottenere e ad ampliare sempre più e niente adesso torniamo un pochino al discorso dell'associazione l'associazione oltre a fare appunto queste attività sportive partecipa già dal 2005 alla polisportiva Città di Cures che è una polisportiva nata e creata proprio dalle associazioni della Bassa Sabina e poi nell'anno 2003 invece un pochino di storia abbiamo partecipato all'anno europeo del disabile e in provincia di Rieti abbiamo programmato e c'è stato poi accordato l'organizzazione di tre manifestazioni sportive ad inviti l'atletica leggera presso il campo Guido Baldi di Rieti la partecipazione al campionato di nuoto e anche a quello di al primo campionato di equitazione che si è tenuto nella Bassa Sabina questa nostra attività ci ha portato anche a ricevere il premio CONI per le pratiche sportive appunto per quell'anno e niente partecipiamo anche ad altre attività abbiamo lo scorso anno portato i nostri ragazzi in vacanza il corpo forestale dello Stato ci ha messo a disposizione a Sabaudia del loro centro all'interno del parco naturale del Circeo abbiamo fatto fare questa esperienza veramente molto positiva per i ragazzi perché hanno dovuto mettere in pratica la loro autonomia quello che loro sanno fare per cui organizzazione della colazione preparare, tenere in ordine le loro stanze quindi diciamo che l'obiettivo dei nostri genitori quello di dare ai ragazzi dell'autonomia durante questo soggiorno l'hanno potuto sperimentare ringrazio tutti dell'attenzione e speriamo di vedervi presto a qualche nostra piccola manifestazione grazie 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 grazie